Ma è orribile, no, non è vero, non si dice Prima di incominciare voglio farvi vedere lo... Ah mi sento... ... dell'utente incluso ... questo video ... ha fatto dei video ... mi sento tutti gli attenti ... il nome lo trovate nella mia descrizione ... del video detto tutto, possiamo andare ... ragazzi Amici, sono andata a fare la spesa ... e ho trovato delle cose porchissime ... e volevo assaggiarle con voi ... direte Giulia hai scoperto l'acqua calda e le conoscevo già ... io no, io non le conoscevo ... questa qua per ultima ... è la Carrie Mango dell'Ainz ... curiosissima ... poi questa qua che è la Calve Agrodolce ... cioè ... ok ... questa raga, sono curiosissima ... che è la Barbecue All'Italiana ... e ... la cheddar ... della Calve ... che porcata ... ho pensato che il modo migliore per assaggiarle ... è il plane cracker ... facciamo così in ordine? ... dai ... che è rim... no, non è vero ... partiamo da... ah ... partiamo da... ... prima da questa ... prendo un piatto però ... che schifo ... se non faccio tutte le bricioline ... ciao, sono tornata ... una miscelata ... allora ... l'odore della Barbecue ... è una stanza barbecue ... delusational ... veramente ... delusational ... ehi ... ehi ... ehi ... ehi ... ehi ... mmm ... non è proprio barbecue barbecue ... sapete di cosa sa? ... di quei wuster tedeschi ... che ha la pellina ... crunchy ... proprio questo ... gli diamo un ... allora ... sincera ... 6 su 10 ... perché mi aspettavo qualcosa di più ... wow ... ma è proprio diversa dalla barbecue ... e invece no ... 6 su 10 ... che rimango ... non c'è niente da fare ... mi ispira ... che è una roba ... oh ... quanto sei bella ... mmm ... oh santo celino ... mmm ... tanta eh ... mmm ... no ... è deliziosa ... è buonissima ... la ... la ... amo ... la amo ... buona ... buonissima ... e il mango non si sente ... 100% ... però buonissima ... l'adoro ... agrodolci ... ehi ... ... ma è orribile ... no ... non è vero ... non si dice ... sa di benzina ... no ... non è così tanta ... oh mamma ... per la gloria ... ... ... non è di mio gustissimo ... ma ... ma ... ma ... ... allora ... lo sapore iniziale ... è una benzinata ... proprio ... importantissima ... dopo di che diventa ... una cosina dolce ... piacevolissima ... assolutamente ... 3 su 10 perché è terribile, però al retrogusto diamo 6 su 10, 5 su 10, dai, non esageriamo. Cheddar, raga, raga, questa qua è una porcata, sono sicura, è buonissima. Non mi deludere, ci deluderà? Speriamo di no. Oh, che bella densità. Beh, naturalmente è vincitrice lei. Marina, grazie, mi ho provato dei pezzettini di prosciutto, che amore che ha la mami. Mamma mia che bella. La roba più chimica che esista, però troppo buona.